Il lavoro è il documento unitario al congresso nazionale della CGL che è in corso e che eleggerà il nuovo segretario generale del sindacato più importante d'Italia. Allora, sebbene sia stato trovato un accordo ieri sera tardi, poi c'è stata qualche voce che parlava invece di una retromarcia, ma è stato confermato alla fine che quello che prevedrebbe l'intesa sarà Maurizio Landini, nuovo segretario generale della CGL, suo vice Vincenzo Colla. Dunque una lista unica, questo scontro, questa corsa, questo duello interno finisce con Landini o dovrà finire, si suppone perché ci sarà il voto, alle 15 in questi minuti dovrebbe esserci l'intervento a porte chiuse di Maurizio Landini, poi ci sarà il voto e quindi una conferenza stampa ufficiale nella quale sentiremo appunto le dichiarazioni del neo segretario. Questo è lo spunto naturalmente per parlare però un po' del tema della questione lavoro tanto cara a noi italiani, naturalmente alla maggioranza di governo. I capitoli diciamo li conosciamo, il reddito di cittadinanza, l'occupazione naturalmente, le pensioni, quota 100, tutto quello insomma che è previsto nelle politiche dell'attuale maggioranza di governo. Io saluto e ringrazio l'ospite che è già arrivato e che è qui con me negli studi di Roma, saluto e ringrazio Claudio Cominardi del Movimento 5 Stelle, sottosegretario al lavoro. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie, grazie sottosegretario di essere con noi, tra poco saremo in collegamento anche con Sergio Cofferati, europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici, già segretario generale della CGL, dunque parleremo anche con lui. Ma direi di andare subito, prima di tutto, a sentire come stanno andando le cose, se ci sono novità dal congresso nazionale della CGL e dunque vado dal nostro inviato Giorgio Rizza che è prontissimo lì, che ha parlato con Susanna Camusso, segretario uscente. Allora, è confermato Giorgio che l'accordo tiene e che dunque dovrebbe andare proprio così come stiamo raccontando? Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a voi, dunque sì, tutto confermato perché tra poche ore, quindi forse probabilmente tra le 16 e le 17, qui a Bari l'Assemblea generale sarà chiamata a votare con voto segreto una candidatura unica e quindi unitaria che vede il nome di Maurizio Landini come segretario generale. Con la novità, come anticipavi tu, che sarà affiancato con il ruolo di vice segretario generale da quel Vincenzo Colla che fino a ieri potevamo definire il suo competitore, il suo antagonista per la corsa alla segreteria. La corsa generale della CGL e le voci a cui tutti riferivi di questa mattina che davano per scricchiolante l'accordo in realtà sono state totalmente smentite, tutto è rientrato, tutto si svolge secondo questo piano di accordo che in buona sostanza media e riconosce quella pluralità di posizioni e di idee che si erano fatte strade, che sono emerse all'interno della CGL nel lungo percorso di questi mesi di avvicinamento al Congresso sul modo di essere sindacato e soprattutto sul modo di interpretare e realizzare quel documento programmatico che è stato votato dal 98% degli iscritti che hanno partecipato alle assemblee, documento programmatico che è il programma sulla quale la CGL si impegnerà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Dunque prima però del voto tra poco prenderà la parola per la prima volta però come ancora candidato Maurizio Landini qui all'assemblea generale, un intervento a porte chiuse però molto atteso perché sarà una sorta di relazione programmatica dalla quale capiremo, per chi la potrà ascoltare, noi giornalisti non possiamo ascoltarla, si capiranno insomma i confini della CGL che sarà poi domani invece dopo la proclamazione dunque il primo intervento ufficiale da segretario generale della CGL di Maurizio Landini. Per il momento da Bari è tutto, vi restituisco la linea se non avete domande. Grazie, grazie Giorgio, a più tardi naturalmente per gli aggiornamenti. E allora eccoci qui da Claudio Cominardi, sottosegretario. Allora io non so, vogliamo intanto fare un commento su quello che sta accadendo all'interno della CGL con Maurizio Landini segretario, naturalmente il governo, no? Nelle trattative sulla questione lavoro con le parti sociali, con i sindacati, come lo vedete Landini? Ovviamente io finché non vediamo il nuovo segretario all'opera, preferisco non commentare rispetto alla persona. Chiaramente il segretario generale di un sindacato così importante ricopre un ruolo molto importante perché rappresenta un corpo sociale grande, vasto. Il mio auspicio è che faccia il sindacato, faccia quello al quale è chiamato, cioè la vocazione di difesa dei diritti dei lavoratori. Finché lo fa in questo senso e lo fa in maniera onesta anche intellettualmente nei confronti del governo mi sembra un qualcosa di importante. Senta, allora veniamo diciamo alle misure del governo, no? Che sono state approvate. Io partirei dal reddito di cittadinanza. Allora intanto già si parla, chiaramente sono battute però, sono battute che fanno riflettere dei furbetti del redditino, cioè di quelle famiglie che stanno addirittura tentando di cambiare lo stato di famiglia per poter accedere all'aiuto di Stato. Ecco, è un'organizzazione diciamo così complicata da questo punto in poi, una volta approvato il decreto, perché immagino insomma che ci siano diverse cose da gestire, lo sappiamo e insomma... Direi che è un'organizzazione complessa, articolata, ma non propriamente complicata perché è stata studiata al minimo dettaglio. I soggetti che andranno a controllare i cosiddetti percettori di reddito sono molteplici, cioè l'Inps per esempio dovrà verificare i requisiti, poi ci sono tanti altri soggetti come per esempio la Guardia di Finanze che potrà fare dei controlli incrociati, esiste l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che è stato recentemente potenziato e che ora ha a capo un generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Alestra. Abbiamo tutti degli strumenti di deterrenza all'interno della proposta del reddito per cui inserendo anche un reato penale fa sì che, diciamo, prima di fare i furbetti ci si penserà molto, no? Anzi questa cosa potrà essere positiva per l'emersione del nero perché ovviamente se c'è un reato penale e chi lavora nero spesso lo fa perché è sfruttato, quindi è costretto, questa cosa farà emergere il nero. Per quanto riguarda coloro i quali si separeranno dal nucleo familiare esiste l'anagrafica dei comuni che potranno monitorare queste situazioni. Però un messaggio che vorrei dare è il seguente. Innanzitutto pensare che l'Italia sia fatta da furbetti, tutti che vogliono imbrogliare. Se pensiamo soprattutto alla parte più povera del paese, se sono finiti in povertà non è propriamente perché sono dei furbetti. Forse i furbetti alcuni hanno fatto carriera purtroppo in questo paese negli anni perché la malitocrazia non esiste. Anche se da controlli della Guardia di Finanza, mi scusi se la interrompo, già emerge che insomma sono tanti, 6 su 10 addirittura, io direi che sono parecchi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Guardia di Finanza se ha questi numeri vuol dire che è in grado di verificare quando c'è il furbetto. Ora che poi aggraviamo dei reati penali quando qualcuno fa delle dichiarazioni mendaci e delle dichiarazioni false, questa cosa fa molto da detenere. Ma quello che voglio dire è che finalmente lo Stato, dopo che vessa da anni i cittadini con tasse, con burocrazia, con balzelli, con doveri, finalmente lo Stato dà al cittadino. Dà. E questo è un rapporto di fiducia finalmente tra Stato e cittadino al quale però si chiede responsabilità da parte di chi beneficerà di questo. E questo è un diritto essenziale, esiste in tutta Europa, nel 1992 con le raccomandazioni, per cui non è un regalino, non è una mancetta. Poi così come l'abbiamo pensato noi, con un patto per il lavoro, un patto per la formazione, degli impegni precisi... Un percorso, diciamo, completo. Ecco, vogliamo chiarire una volta per tutte, però sottosegretario, se questa misura, se il reddito di cittadinanza è effettivamente uno strumento contro la povertà, oppure un modo per favorire l'occupazione? Oppure tutte e due le cose insieme? È un po' e un po'. Innanzitutto, una cosa che ripeto spesso, ma è la base dell'economia, è che l'occupazione da cosa è determinata. È determinata dagli investimenti e dalla domanda aggregata. Questo crea occupazione. Poi si può intervenire sui contratti per il lavoro, del lavoro. Cioè come il decreto dignità, per esempio, interviene tutti sui contratti a termine, contratti a tempo indeterminato e oggi l'osservatorio dell'Inps sulla precarietà ci dice che sono raddoppiate, nel mese di novembre, raddoppiate le trasformazioni in contratti stabili. In più, c'è una situazione invece che riguarda, attiene alle questioni più di carattere sociale e di politica attiva, perché questo fa il reddito, è un riattivatore sociale, esiste in tutta Europa, ce lo chiedono delle grandi organizzazioni mondiali, e questo perché è positivo? Perché noi abbiamo delle vacanze libere in Italia. Non si riesce a incrociare domanda e offerta di lavoro. Questo è un aspetto. In più abbiamo 5 milioni di poveri e in questa famiglia ci stanno circa 1 milione e 200 mila bambini in povertà assoluta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non riescono ad arrivare alla fine del mese, non riescono a far vivere una vita dignitosa i propri figli, per esempio. E questo genera tutta una serie di impatti nella società, incredibili sanitario, della giustizia. Questo è un dato importante e voglio chiudere con questo. Nei paesi più diseguali, dove c'è un più alto tasso di povertà, c'è un più alto tasso di delinquenza, di disuguaglianza sociale, problemi di occupazione. Quindi c'è problemi sanitari, perché chi ha due soldi in tasca in più li spende per i beni di prima necessità. E questo crea un tessuto positivo. Allora, direi di aprire un contraddittorio che certamente immagino ci sarà con il nostro ospite che è pronto. Lo ringrazio e lo saluto. Sergio Cofferati, europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici, già segretario generale della CGL. Grazie di essere con noi Cofferati. Credo che fosse già in ascolto e ha sentito in parte quello che diceva il sottosegretario. Buon pomeriggio, benvenuto. Anche a voi, buongiorno. Senta, io non so se vuole già commentare le dichiarazioni del sottosegretario. Non ho sentito tutto, ma insomma mi limito a quello che ho sentito. Io penso che il governo avrebbe fatto bene, visto che voleva affrontare materie che poi riguardano direttamente l'attività, il lavoro, il ruolo del sindacato. A parlare prima con i sindacati. Sia per quanto riguarda le pensioni, sia per quanto riguarda una misura a tutela delle persone senza reddito, con reddito insufficiente. Io ho molta nostalgia, lo confesso, delle procedure che si usavano un tempo. Era il confronto tra il governo e il sindacato, su materie che erano proprie del sindacato, e poi il governo autonomamente decideva. Qui invece ho visto due buone intenzioni trasformate in pessimi provvedimenti, sia quello sulle pensioni che quello sul reddito. Peraltro con argomenti che li accompagnano, privi di fondamento, ma lo diceva il sottosegretario stesso, il lavoro si crea con gli investimenti e incrementando la domanda, soprattutto perché noi siamo un paese che produce prevalentemente per il soddisfacimento dei bisogni interni. Abbiamo anche quote di esportazione in alcuni settori interessanti, ma non sono la parte più rilevante. Dunque, se il reddito non cresce, la domanda non aumenta. Aveste realizzato le pensioni, è un errore clamoroso, oltre che un danno per milioni di persone. Tanto per fare un esempio tra quelli che si possono mettere in campo. Dunque, se vuoi aumentare l'occupazione, devi avere una politica di investimenti, sia pubblici che di sostegno agli investimenti privati, che nei provvedimenti del governo non c'è. Dunque, non avremo un incremento di occupazione da lì. Poi si dice, ma se delle persone escono prima dal lavoro, ci sarà che li sostituisce. Non è vero, non è mai stato così. Peraltro, le persone che se ne andranno sono persone che hanno una condizione sufficiente per vivere dopo. Chi ha un lavoro con una retribuzione bassa non andrà in pensione con la quota 100. Resterà, imprecando, a lavorare fino alla soglia molto alta che la Fornero gli ha posto come obbligo. Dunque, sono cose che partono da esigenze condivisibili. La difesa di chi ha un reddito basso oppure la possibilità di uscire prima dal lavoro. Ma sono fatte nella maniera peggiore che si potesse immaginare. C'è molta demagogia in questi provvedimenti. Il contenuto concreto, ahimè, lascia molto a desiderare per una parte ed è particolarmente negativo per l'altro, accompagnato poi da contraddizioni clamorose come quella che ricordavo, che riguarda i pensionati oppure quella della mancanza di un piano di investimenti per il sistema produttivo, se dei beni che dei servizi. Allora, perché non ritornare a delle pratiche che hanno dato vantaggi assai rilevanti, che è quello di rispettare i propri interlocutori partendo dal confronto con loro fatto prima di decidere sulla loro pelle provvedimenti che possono essere anche mossi da buone intenzioni ma che rischiano di avere effetti negativi. Insomma, quello che un tempo veniva fatto funzionava. L'averlo cancellato, per la verità, non sono stati i primi loro. che era già capitato con il governo Renzi in precedenza secondo me è un errore. Ecco, la concertazione era una pratica molto, molto positiva. Adesso non c'è più. Ecco, anche il fatto, non so se possiamo fare anche questo rilievo che ad esempio, insomma, all'apertura del Congresso Nazionale della CGL non c'erano rappresentanti della maggioranza di governo. Poi facciamo comunque... Sì, anche questo l'ho trovato... No, l'ho trovato sbagliato, devo dire anche sgradevole. Ho fatto congressi dal segretario della CGL dove erano presenti i rappresentanti dell'opposizione esattamente come quelli del governo. Qualche volta al governo c'era il centrodestra il presidente Berlusconi veniva ai congressi della CGL tanto per ricordare un episodio passato che conferma quello che le sto dicendo esattamente come era avvenuto il presidente Prodi in circostanze precedenti perché c'era un rapporto di reciproco rispetto fatto della ricerca comune di obiettivi per problemi da risolvere. Poi la soluzione che il sindacato auspicava poteva essere diversa da quella del proprio interlocutore. Ma insomma, la relazione c'era. Non andare ad un congresso come quello della CGL non ho capito che senso possa avere. Ascoltare quello che pensa il tuo interlocutore è sempre utile. E l'interlocutore può essere poi ad un certo punto un interlocutore col quale confliggi. Ma può essere un interlocutore col quale fai delle cose in comunanza perché sono nell'interesse dei cittadini. Prima Cofferati di commentare con lei l'accordo e la probabile elezione quasi sicura di Maurizio Landini a nuovo segretario. Io vorrei che invece qui con me il sottosegretario Claudio Cominardi intanto le giro la domanda che ho fatto anche a Cofferati e che in qualche modo chiede che senso abbia che non ci sia stato nessuno della maggioranza di governo all'apertura del congresso della CGL. E poi le chiedo di rispondere naturalmente ai rilievi che Cofferati ha fatto alle politiche del governo in merito di occupazione, di pensioni e di tutto quello che abbiamo sentito. Sinceramente io posso parlare solo a titolo personale. Io in questi giorni sono veramente oberato perché sto lavorando molto su quello che è reddito di cittadinanza, su quello che è quota 100, su queste proposte che ci chiedono i cittadini italiani veramente da molti anni. Prima avevamo la legge Fornero e voglio ricordare che purtroppo i sindacati, quelli maggiormente rappresentativi, quindi non tutti, scioperarono di venerdì solo per tre ore per la legge Fornero. Ora stiamo introducendo quota 100, quindi una possibilità in più, un'opzione per uscire dal mercato del lavoro ed è un peccato veramente ricevere delle critiche. Io veramente ho la mamma di un mio carissimo amico che lavora nella scuola, che non ce la fa più andare avanti, con quota 100 andrà in pensione. Ho il papà di un altro mio carissimo amico che lavora in fabbrica, che è un po' acciaccato proprio per via per il lavoro anche pesante che fa e potrà uscire, non vede l'ora di uscire e uscirà. Quindi non è vero che non servirà a nulla e chiaramente non vale per tutti perché non è un'abolizionetta, ma il primo step, e poi garantirà effettivamente, io non so se sarà uno a uno l'uscita e l'è rientrato, cioè il turno over all'interno dell'azienda, ma siccome sono a platea potenziale di un milione di persone nel triennio, sicuramente qualche giovane entrerà nel mondo del lavoro. Questo è sicuro e garantito. E aggiungo un'altra questione molto importante, gli investimenti pubblici per l'occupazione, è certo che lo abbiamo fatti, lo dice la legge di stabilità, lo dice per esempio gli investimenti pubblici per il distesso idrogeologico, 10 miliardi di euro, non mi sembrano pochi, visto che ogni volta che in Italia cadono due gocce d'acqua in più, è un disastro, bisogna sempre ricorrere ai pari. Investimenti per la rete idrica, che in alcuni paesi ci sono delle perdite oltre il 60%, l'oro blu, l'acqua, un bene comune, le manutenzioni del territorio, più in generale, quindi anche per quanto riguarda le infrastrutture quelle utili, i finanziamenti per le start-up innovative nelle nuove tecnologie che sono la vera leva della produttività e non siamo sempre rimasti indietro, quindi intelligenza artificiale, blockchain, automazione, la flat tax per le partite IVA, si parla di milioni di persone coinvolte al 15% per un imponibile fino a 65 mila euro dal 2020 per un imponibile fino a 100 mila euro, però al 20%, e poi il reddito di cittadinanza, cioè questo è il primo governo che fa una manovra di questo tipo che si occupa degli ultimi di cui non si era mai occupato nessuno, 5 milioni di persone e tra questi 5 milioni di persone, nord, da nord a sud, riguarda tutto il paese, perché il 47% dei percettori sono al centro nord e il 53% sono al sud, e quindi riguarda tutta l'Italia ma riguarda anche tutte le classi sociali, riguarda i pensionati, riguarda i giovani che non trovano lavoro, riguardano i disoccupati di lunga durata che non riescono più a rientrarsi in età matura, quindi è una cosa veramente epocale e finalmente ce l'abbiamo fatta, è un grande risultato. Chiedo alle parti sociali, quindi anche ai sindacati, che verranno uditi in commissione durante la discussione, di dare un contributo e noi lo ascolteremo sicuramente. Cofferati, vengo a concludere da lei, manca un minuto e mezzo e le chiedo perché, come peraltro ha dichiarato, è un bellissimo segno l'intesa raggiunta su Maurizio Landini, segretario generale. Ma io penso che Maurizio sia la persona giusta per dirigere la CGL in una fase delicata e difficile come quella attuale di un paese che al di là di quello che dice il sottosegretario è in stagnazione, lo dice Tria e non lo dico io. Secondo me, in verità, stiamo ancora un po' peggio della stagnazione annunciata da Tria perché vede la signora che fa la maestra o l'insegnante che dice che utilizzava prima il mio interlocutore come esempio, può andare in pensione con la quota 100 perché è il marito che lavora. Diversamente con quello che prende oggi un insegnante non potrebbe vivere con una pensione ridotta come inevitabile per i contributi versati che non possono essere toccati ma non vengono certo incrementati grazie alle attuali norme. Dunque, in un paese così avere un sindacato forte è molto importante per difendere le persone più deboli ed è importante che i segretari del sindacato siano persone che hanno una storia un'esperienza e anche una capacità di costruire consenso come indubbiamente Maurizio ha. Poi, se la Cigelle fosse arrivata alla fine con una divisione eleggendo a maggioranza il suo segretario ci saremmo trovati di fronte ad un inedito negativo mentre invece un accordo tra opinioni diverse sulle persone è una cosa molto importante un fatto molto positivo bello che ho apprezzato e che considero portatore di una stagione positiva della vita del mio sindacato. Grazie, grazie mille a Sergio Cofferati davvero abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione la ringrazio Cofferati così come ringrazio anche il sottosegretario al lavoro Cominardi grazie di essere stati con noi naturalmente andiamo in break per qualche minuto c'è l'apertura di World Street un TG Flash con le ultime notizie poi torniamo a parlare di politica ma ci concentriamo con la questione sulla, scusate questione migranti che torna a dividere il nostro governo dalle ONG dal resto dell'Europa il caso della Sea Watch 3 vi aspetto tra pochissimo con altri ospiti a tra poco grazie a tutti